I tre punti sono quelli che poi danno fiducia e consapevolezza, l'abbiamo attenuti facendo un gran primo tempo, un secondo tempo dove poi abbiamo controllato un po' la gara, loro sono venuto un po' fuori solo con queste palle lunghe, sono abituati con quegli attaccanti che sono veramente fisici e ti impegnano fino in fondo, ma noi abbiamo mantenuto sempre il campo bene, ci abbiamo creduto anche sull'1-1 che è stato veramente un pareggio così senza, con una giocata fatta da un loro attaccante con grande qualità, però la reazione e i gol di Stefano ha dato l'infa e tre punti, l'infa e entusiasmo a questo gruppo che da quando abbiamo iniziato il campo di ritorno c'è un qualcosa di diverso, c'è più consapevolezza, c'è più fiducia e sicuramente c'è anche un qualcosa in più che si richiedeva dopo la partita di Reggio Emilia. I dubbi non ci sono, ci sono solo certezze sinceramente. Io sono orgoglioso e fiducioso, ripeto, di questa squadra perché tutti spingono, i giocatori li stanno spingendo, ci credono di più, abbiamo una nuova consapevolezza, una nuova fiducia e questo grazie anche al sostegno dei nostri grandissimi tifosi che veramente sono, anche se non ci sono, li sentiamo, li sentiamo, quando si vince poi l'entusiasmo cresce e adesso sta a noi mantenere questa entusiasmo e questa continuità attraverso le prestazioni di campo. Sul discorso di Vlante Putte sono contento perché non l'abbiamo avuto per un po' di tempo, quindi è un acquisto di gennaio, è un altro acquisto di gennaio che abbiamo fatto, ha fatto una buona prestazione e il valore aggiunto di Stefano Giacomelli, non sto qui a dirlo, è un capitano, è una bandiera per noi e finalmente si è sbloccato anche lui che ci teneva tantissimo e ci ha regalato tre punti fondamentali per i nostri obiettivi che sono sempre i quelli di fare la prestazione e far punti. La domanda del collega per forse era Vlante Putte, Caponelli, tutto sto... E di chi deve giocare domani? Ah, vabbè, ma allora ditemelo, no? No, allora sicuramente oggi pomeriggio ci sono da valutare qualche giocatore sicuramente perché abbiamo visto che qualche giocatore a volte non si recupera bene dopo una partita dispendiosa come è stata quella di Pordenone. La valutazione di alcuni giocatori la farò oggi. Chiaramente Stefano non l'ho fatto giocare a Pordenone, probabilmente sarà della partita di domani, sicuramente sì, quello sì. Restando alla partita con il Pordenone, poi la chiediamo, forse anche così hai un modo di spiegare. Sai, molti si sono chiesti questa tua scelta finale e si è parlato anche, in modo ironico, dei sei difensori del modulo strano. Ma più che sei difensori, allora loro cosa hanno fatto? Hanno messo tre attaccanti centrali e hanno aperto gli esterni, quindi ci hanno, avevano l'ampiezza ma avevano anche tre attaccanti centrali e con solo due difensori secondo me in quel momento lì ho pensato di mettere un difensore in più, centrali infatti un 3 contro 3, stando a 5 e Cappelletti davanti alla difesa perché comunque in passato Daniel ha già fatto quel ruolo lì di mediano davanti alla difesa alla Rigoni, ecco diciamo così alla Rigoni, quindi non erano sei difensori ma erano 5 difensori sì e Daniel faceva il centrocampista, questo perché comunque abbiamo visto che loro mantenono questa palla lunga sempre dritta per dritta e abbiamo messo davanti la difesa il Rigoni tra virgoletti di turno che era Daniel Cappelletti con tre difensori centrali a combattere contro i tre attaccanti loro. Il gol l'abbiamo preso perché comunque loro sono stati bravissimi in questa situazione di anticipo di Mora che ha fatto veramente un bel gol, evitabile sicuramente ma fa parte del gioco e in quel momento lì poteva sembrare una cosa negativa ma secondo me il gol di Stefano ha fatto capire che noi in questo campionato di ritorno abbiamo cambiato mentalità e atteggiamento ed è questo che è la cosa più convincente e più bella. Senti in attacco domani si potrà vedere la coppia lungo gli Albor, Maggiorini come sta? Eh sì sicuramente sarà una delle situazioni di oggi da valutare ok quindi sia Maggiorini sia Longo bisogna capire perché anche Longo arriva da un periodo sì che ha dato continuare gli allenamenti ma è la prima partita diciamo intensa e importante sotto l'aspetto diciamo dell'aspetto fisico e mentale che ha fatto. Davanti abbiamo molte alternative di qualità sia Yalov sia Gori sicuramente non partirà dall'inizio Lanzafame per i motivi chiaramente però domani sicuramente sarà sicuramente potrebbe essere protagonista di un subentro in questo periodo qui parlo di Lanzafame. Qualcosa cambierò probabilmente sia anche in avanti qualcosa cambierò ripente molto da oggi eh dall'allenamento di oggi dal recupero che hanno fatto che fanno alcuni giocatori. Qualche giocatore sarà avvicendato lo dico già subito che Brusca Gini secondo me domani giocherà a titolare ok? Brusca Gini dovrà a titolare poi vedremo tutto il resto del Rigoni tornerà a titolare tanto per dirne una e vediamo i centrocampisti anche lì che erano perché Zonta ha speso molto Cinelli ha speso molto e bisogna capire bisogna capire oggi pomeriggio l'allenamento di oggi pomeriggio mi schiarerà le idee per quelli che hanno recuperato fisicamente e per che saranno magari eh messi eh faranno un turnover tanto per dire se si parla di tornover. Siamo sempre lì siamo sempre lì però poi dipende 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 anche da oggi ragazzi vi dico sono contento per lui perché comunque ci stiamo lavorando da un mese a sta parte sta lavorando con continuità e i risultati si vedono quando un giocatore lavora con continuità e sono contento per lui perché si è sbloccato perché è un attaccante che ha quelle qualità che noi sapevamo che potesse avere ci abbiamo puntato per questo motivo però si deve lavorare di squadra e ha capito anche Longo che lavorando di squadra anche lui le prestazioni sue si aumentano perché noi abbiamo un concetto di squadra molto ampio deve essere diverso dagli altri che i nostri risultati arrivano solo attraverso la squadra e questo in questo momento qui la squadra l'ha capito e ripeto le energie che ci sono positive nuove sono anche dipende anche da questo atteggiamento che abbiamo in campo e da queste prestazioni che abbiamo fornito nelle ultime due partite. Diciamo che il nostro sogno è fare l'impresa contro il Monza contro una grande squadra contro una squadra che ha veramente dei giocatori fortissimi con dei campioni anche di Serie A perché bisogna dire che Boateng, Baolotelli è inutile che ci giriamo intorno a giocare di Serie A farebbero la differenza anche in Serie A. Per questo però dobbiamo giocare come sappiamo, non dobbiamo snanutare niente, dobbiamo giocare come sappiamo, compatti, aggressivi, con quel coraggio che abbiamo visto anche a Pordenone e con Venezia e domani secondo me bisogna essere aiutati anche dalla buona sorte, si dice così, perché comunque con queste squadre qui bisogna che la buona sorte ti dia anche la mano. Io ci credo, la squadra ci crede, i tifosi ci credono e quindi il sogno è poter fare l'impresa contro il Monza. Tutto formato però, Mimo, queste partite qui con squadroni così, forse psicologicamente sono quelle che impegnano un po' meno nel senso che la perdita, l'impresa, non ha niente perché mettiamo che si è battuta, vabbè, il Monza. Quindi forse questo potrebbe essere un vantaggio. Però Alberto, io dico sempre che in B, un punto o tre punti hanno sempre un valore importante, hanno sempre valore, quindi farlo con il Monza, farlo con il Venezia o farli con l'Ascoli hanno sempre un valore e domani per noi fare punti ha valore, quindi l'obiettivo nostro è fare punti domani. Seguirà l'attenzione anche forse sul partito di difesa? Dappertutto. Il Monza è una squadra che tecnicamente, io ho guardato la partita che hanno fatto contro un'altra grande squadra che è l'Empoli, hanno creato sette occasioni da gol, ma sette occasioni da gol con una qualità tecnica straordinaria, quindi è inutile. Noi dobbiamo avere massima concentrazione e compattezza di squadra. Concentrazione e compattezza devono essere obbligatorie e il coraggio deve essere quello di andare a credire, di essere aggressivi, di avere la capacità di ribaltare la situazione. Non è bene di crederci fino in fondo perché le partite vanno giocate fino al 95esimo e ripeto, quel sogno che noi abbiamo di fare l'impresa si può fare, si può fare attraverso queste caratteristiche e perché comunque stiamo bene anche noi, perché l'energia positiva che c'è adesso in squadra bisogna sfruttarla, bisogna dare continuità ai risultati e alle prestazioni. Del Monte che arriva recuperati ci sono? Magari che mi ha sorpreso di vedere dall'inizio? Stanno meglio ma non assolutamente per cercare di metterli in campo domani, quindi secondo me non sono ancora convocabili, anche se stanno meglio, però non sono convocabili perché hanno bisogno di lavorare con la squadra, ancora non hanno lavorato con la squadra e finché non lavorano con la squadra non vogliamo rischiare niente. Grazie. Grazie.